Sì, che cosa è questo? Io non te lo dico, facevano i Yen. E' super grande. E' come una torta. Puro hielo? Sì. Questo va a essere questo. E' un po' di più. E' un po' di più. Sì, è un po' di più. Un po' di più. Un po' di più da. Un po' di più. Un po' di più. Un po' di più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.